Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Noi Cosiamo Lightburn. Oggi un nuovo video che serve anche per fare una lavorazione leggermente particolare con Lightburn, ovvero sia, come avete detto dal titolo, divertiamoci con i colori di Lightburn. Allora, ho preso spunto dalle prossime festività che riguarderanno Halloween, che certamente non è una ricorrenza italiana, però ormai è famosa in tutto il mondo. E sapete che tutti gli anni per Halloween faccio qualcosa. In questo video vi mostro come ho fatto un fuori porta da mettere alla vostra porta d'ingresso per raccogliere quei bambini che vi diranno scherzetto, dolcetto. Ok, andiamo a vedere insieme con una lavorazione abbastanza particolare. Quello che vedete ora sul mio piano di lavoro è la simulazione di quello che voglio far fare al mio laser, ovvero sia, questo è un progetto che ho fatto, vi metterò poi nel link le risorse che ho utilizzato per questo, quindi un file jpeg scaricato da internet, vi metterò anche questo progetto e un altro, sempre a tema di Halloween, leggermente diverso, hanno in comune solamente la scritta, perché avevo visto quella scritta su un file, ve lo dico sinceramente, su Etsy, la scritta l'ho presa come spunto, ho scaricato il file perché mi piaceva proprio quella scritta e ho modificato però tutto il progetto, ve li farò vedere comunque tutti e due. Quello che vedete sul piano di lavoro non è altro che quello che vorrei che venisse fuori come il mio fuoriporta per Halloween. Vedete? Ho uno sfondo arancione, perché l'arancione richiama un po' la zucca di Halloween, ho questa scritta in rosso su uno sfondo nero, la zucca, che qui ha un colore che non è proprio la zucca, ma non potevo mettere i due arancioni come sfondo e come zucca, e poi ho una casa, fantasma e due fantasmini, ok? Questo è il lavoro come verrà finito e vi faccio vedere il lavoro finito adesso in questa foto. Questa è la foto finita attaccata alla porta di casa mia, quindi qui vedete anche un po', se guardate un po', se volete spiare, il pomello riflette un po' all'interno dello studio dove faccio queste registrazioni e quindi avete un po' il caos che c'è all'interno. Comunque questa è la foto finita, però vi voglio accompagnare passo passo per farvi vedere appunto come riesco a fare questa immagine e da questa immagine come ricavare, grazie al mio laser che sto attualmente utilizzato, che è un Acmer P1 10W, con Aera Assist, eccetera, eccetera, in automatico con la mia piccola modifica, e vi faccio vedere appunto come ho realizzato il tutto. E' molto semplice, vi dico subito che, come i più svegli avranno capito, si tratta di, come materiale, ho usato la gomma EVA. Gomma EVA che è molto duttile, si lavora velocemente, si lavora veramente in maniera favolosa, a mio avviso, io ne uso tantissime, no, di tutti i colori e così via, e ci ho messo pochi minuti ad andare a recuperare tutti i colori che mi servivano per fare questo fuoriporta. Bando alle ciance e passiamo subito a vedere come ho fatto il progetto. Per realizzare questo progetto ho dovuto fare uno sfondo riempito, vi metto i livelli qua perché vi voglio far capire un po' com'è il funzionamento del tutto. Ho fatto uno sfondo, poi cosa ho fatto? Sono andato a prendere quella scritta, la vedete qua, dove vi indico con il mio cursore, poi vado a prendere gli elementi che comporranno tutto il labbaradan, e quindi ho la zucca, ho la scritta, ho il contorno della scritta fatta con un semplicissimo offset, ho due fantasmi presi da una raccolta di disegni a tema Halloween, ve lo metto in descrizione. Però se lo volete scaricare, mi raccomando, registratevi perché non lo so se riescono tutti a scaricare queste cose, per cui registratevi e poi scaricate questo JPEG con tutte le forme dove ho scaricato questa casa fantasma e i due fantasmini, ok? Andiamo a vedere come si lavora però il tutto. Come vedete dai livelli, qui dalla finestra livelli, vedete che io ho parecchi livelli, ma quelli che mi interessano principalmente sono gli ultimi due, vedete che gli ho anche dato un nome, incisione e taglio, perché io farò con tutti questi disegni una serie di incisioni e tagli, per poi andare a comporre tutto. E quello che avete visto qui di fianco, cioè questo, non è altro che l'andare a mettere, ora vi faccio vedere se vado a togliere un po' di cose, vedete? Questo è il risultato che abbiamo praticamente, ora ho tolto troppo forse, che abbiamo praticamente simile a questo, perché poi questo mi serviva solo per vedere quale sarebbe stato l'effetto finale. E quindi metto i colori che verosimilmente saranno quelli che utilizzerò, anche con qualche piccola sfumatura e piccolo difetto, e vi faccio vedere poi all'ultimo il fuori porta composto e tagliato e incollato, eccetera, eccetera, e mi servono solo per questo. Quelli che andrò a utilizzare effettivamente saranno gli ultimi due, che sono l'incisione, e vi spiego perché incisione, anche se prima vista non sembrerebbe, e il taglio della gomma Eva. Rimetto tutto a posto, così capiamo bene le cose, e questo è il mio risultato finale. Ho fatto questi due fori perché? Per far passare il cordino e per attaccarlo alla porta. Andiamo a vedere. Ora, per prima cosa, vedete che ho fatto il taglio dello sfondo con l'incisione, lo vedete in questa fotografia, con l'incisione di dove dovrò andare a posizionare i vari pezzi. Quindi, la prima lavorazione effettiva che faccio è andare a tagliare questo e andare a incidere questo livello marrone, il numero 26, il numero 27 è un taglio, quindi la prima step uscirà questa foto che vedete in questo momento. Come vedete, gli sfondi ne ho fatti due, uguali, tutte e due gomma Eva, e perché poi li andrò a incollare uno sopra l'altro per darmi una certa robustezza al tutto, perché la gomma Eva è circa 2 mm, ma flat abbastanza. Fate conto che questo è un bel pezzettino di gomma Eva, per cui, per dargli un po' di solidità, ne ho fatti due e li ho incollati una sull'altra. Prossimo step, andrò a incidere, aspettate se che dovrei trovarlo, andrò a incidere e tagliare questo qua, che vi ingrandisco e ve lo faccio vedere, perché andrò ad incidere con il livello 26, quindi quello marrone, delle righe che mi servono poi come riferimento per andare ad incollare, come ho fatto nella foto precedente, e vi faccio vedere appunto che faccio queste righe, queste incisioni, con il 26, in modo che vi faccio una leggera traccia, perché poi dovrò andare ad incollarci sopra i vari elementi, che sono ogni singola lettera e la zucca. Contemporaneamente allo sfondo della scritta, quindi praticamente quello che vedete ora in foto, andrò anche a tagliare la casetta, la casa stregata che abbiamo qua, e andrò anche a tagliare, siccome sono tutti neri, andrò anche a tagliare i due fantasmi da mettere sulla, diciamo, incollati sopra a questa parte. In queste foto che vi sto mandando adesso, vedete appunto che piano piano vado a mettere, e a cercare di collimare, ma momentaneamente, proprio in maniera così, abbastanza, per vedere se è andato tutto bene, gli elementi che ho tagliato con la gomma eva nera, quindi la casetta e i due fantasmi. Una volta fatto questo, andrò a incidere, con lo stesso colore dello sfondo, andrò ad incidere la zucca, la zucca che sarà dello stesso colore dello sfondo che vediamo qua, e che andrà a fare un certo risalto con la scritta che ho, diciamo, che ho fatto, e che poi vediamo tutte insieme. Una volta tagliata la zucca di arancione, cosa dovrò andare a fare? Dovrò andare a tagliare la scritta. Attenzione, perché ho utilizzato, come vedremo poi, vedete anche in questa foto, ho utilizzato della gomma eva glitterata, per cui, logicamente, essendo glitterata, le lettere le devo tagliare alla rovescia, perché sicuramente lo sapete tutti, la gomma eva glitterata si taglia e si incide. La decisione non ha scopo, diciamo, in questo speciale tipo di gomma eva glitterata, perché non si vede. Però io, in questo caso, andrò a incollare il retro, e quindi la farò specchiata, quindi la capovolgerò con lo strumento specchia, in modo da farla alla rovescia, perché io possa incollarlo poi sulla parte nera che avevo tagliato precedentemente. Andrò a posizionare le lettere, in questo caso ora mettiamo Halloween, di fianco alla, diciamo, alla scritta quella principale, e poi andrò a mettere anche quelle piccole happy che ho messo qua, perché anche se sono sopra, le ho tagliate così per, per risparmiare un po' di gomma eva glitterata, ne ho abbastanza, però vabbè, buttar via, mi dispiace, e quindi ho messo questo, in questo modo, in modo che taglio tutto insieme, specchiato, per poi andare a completare tutto. Ecco, come vi dicevo prima, e adesso vi faccio rivedere, l'effetto, andando a dare dei livelli che poi non lavorerò, come in questo caso, io ho fatto, praticamente ho messo questi livelli, dove, questo è il livello, diciamo, di sfondo, come poi sarà nella realtà, in modo che possa avere subito un impatto, di come verrà il mio lavoro. Adesso vi faccio vedere il lavoro finito, e questa è la foto, dove vediamo il lavoro finito, ma ancora sulla scrivania. Vabbè, allora, io penso di avervi dato un'idea, per fare queste cose, perché ora si fanno per Halloween, tra poco si faranno per Natale, se volete utilizzare gomma eva, ma si può fare anche per avere un'idea, con, dando dei colori, che poi andremo a dare, magari su del multistrato, su altro materiale, eccetera, eccetera, non è un problema, questo è per avere subito un'idea, l'impatto visivo, cioè se effettivamente, quel tipo di lavorazione ci piace, oppure no, i colori stanno bene, lo sfondo sta bene, quell'offset fa risaltare il tutto, sì, vedete che qui la zucca, non è proprio il colore arancione, come dietro, ma come dicevo prima, per problemi di livelli, di light bulb, non potevo fare l'arancione, perché altrimenti, se io gli dessi, vi faccio vedere, se io gli dessi un riempimento, come questo, vedete, mi viene nero, per cui non sta assolutamente bene, quindi ho dovuto trovare una cosa, che mi desse comunque l'idea, di come sarebbe venuto il lavoro finito, però con un colore leggermente diverso, allora, io vi metto tutto nel, in descrizione, link per andare a scaricare, questo è un altro bel progetto, dal quale ho preso questa scritta, perché mi era piaciuto, il progetto in sé non mi era piaciuto molto, perché era molto grande, aveva delle, dei particolari molto fini, che andandoli a restringere, perché il lavoro è abbastanza grande, quindi ci vuole un piano di lavoro abbastanza consistente, volevo fare questo video velocemente, non avevo il materiale adatto per farlo, perché non avevo un compensato così largo attualmente, come quello che sarebbe servito, perché sono tre livelli, per cui sarebbe servito per fare questo, e ho deciso di farlo con la gomma eva, il risultato a mio avviso è veramente soddisfacente, non dico che è bello, perché è come l'oste quando vuol vendere il vino, io non devo vendere niente, voi dovete iscrivervi per scaricare i progetti, e per vedere sempre, se mettete la campanella, sarete sempre aggiornati ogni volta che faccio un video, e ci avviciniamo alle feste, forse farò qualche video in più, rispetto alla solita cadenza settimanale, like, iscriversi al canale, e alla prossima, ciao a tutti.